Andrà avanti per altri sei mesi, salvo proroga, l'inchiesta sull'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre, assassinata nella sua villa alloggiata, un lussuoso quartiere romano, il 10 luglio del 91. Il GIP ha infatti respinto oggi la richiesta di archiviazione nei confronti di Roberto Iacono, figlio della governante dei figli della donna uccisa, e Manuel Winston, ex camidiere filippino della contessa, che restano quindi indagati per omicidio volontario. Nel respingere la richiesta di archiviazione il GIP ha ordinato nuove e più approfondite indagini sui reperti, saranno riesaminati alla luce delle nuove tecnologie scientifiche, anche lo zoccolo usato per uccidere e l'orologio d'oro che era al polso della contessa, fermo all'ora del delitto ma mai sequestrato e custodito ancora dal marito.